Il mio amico, guarda, posso suggerire una frase interessante? Vedi domani? Dai, vedete adesso, c'è un taglio. Sì, perfetto. Guarda, puoi anche abbassare un po' il gain, se vuoi. Da zero. Certo, ah, ok. E il mio wireless, bellissimo, allora, abbassare il gain, io, aspetta. No, 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 fai quelli di palazzo, ma dovevo andare a tocco. Ho passato le 6 di B, buonanza. Allora, cantate insieme a noi perché sennò i mortacci costa. Dai, ce la fate. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti